Abbiamo parlato anche dello stato di salute della coalizione e dei prossimi passaggi. ...e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. ...e delle dichiarazioni di voto, ha chiesto di parlarsi... ...siamo al Monte dei Paschi di Siena, che è un momento di chiamare un partito... ...il Senato approva. Grazie. 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 Grazie.